Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di pulizie, in particolare la pulizia dei pavimenti. Da quando in casa c'è lui, ormai pulire i pavimenti è diventata davvero una passeggiata e lo faccio anche molto volentieri. Sto parlando di Jet Clean Multifunzione 3 in 1 di Vileda. Questo prodotto è davvero pazzesco perché fa tutto lui, in quanto essendo un multifunzione va ad aspirare, lavare e asciugare in una sola passata. Quindi di mezza notevolmente i tempi di pulizia, sapete che io ho una casa molto grande su tre piani e ci metto molto tempo per pulirla. Devo davvero dedicarci gran parte delle mie giornate, comunque gran parte delle ore durante la giornata per pulirla, in quanto è molto molto grande. E se posso avere dei piccoli aiutanti per dimezzare i tempi, per pulirla velocemente, ovviamente ben venga. Dopo vi faccio vedere come funziona, quali sono i risultati che dà, però prima voglio spendere giusto due paroline. Innanzitutto come arriva il prodotto? Arriva praticamente già assemblato, l'unica cosa che dovete fare è infilare il manico all'interno di questo bocchino. Per il resto arriva già assemblato, quindi è davvero semplicissimo il montaggio. Il cavo tra l'altro è parecchio lungo perché è lungo 7 metri, quindi riesco a spostarmi tranquillamente in diversi ambienti della casa, molto molto comodo. Poi in dotazione trovate questo che serve per dosare l'acqua e per versarla all'interno del serbatoio. E poi c'è questo vassoio che si può utilizzare sia come base una volta che Jet Clean non è in funzione, quindi lo appoggiate semplicemente qui e lo tenete all'interno del vostro ripostiglio. Ma in realtà è stato pensato anche per pulire il rullo dopo ogni utilizzo. Adesso vi lascio alle clip che ho registrato, così potete vedere come si prepara, come si utilizza e quali sono i risultati che dà. Arriviamo finalmente alla parte pratica. La prima cosa che faccio è riempire il serbatoio e nell'80% dei casi utilizzo sempre soltanto acqua. Mi raccomando non mettete acqua calda all'interno, tiepida o anche fredda va più che bene. E dovete sapere che Jet Clean rimuove oltre il 99% dei batteri lavando solo ed esclusivamente con acqua. Per questo motivo non metto nessun tipo di detersivo. È molto semplice utilizzarlo perché vi basterà semplicemente premere questo tastino rosso che attiverà l'aspirazione. Mentre premendo il tastino blu che si trova sotto la maniglia andrete ad attivare anche l'erogazione dell'acqua. L'acqua viene erogata soltanto quando i led sono accesi e soltanto quando il dispositivo va in avanti. Quindi in questo caso è molto importante nella fase di lavaggio andare a lavare il pavimento a strisce. Perché quando il dispositivo va in avanti l'acqua viene erogata e quindi il pavimento si bagna. Quando invece portate il dispositivo verso di voi viene attivata soltanto la fase di asciugatura. Quindi il pavimento verrà asciugato nella zona dove avete appena bagnato. È pratico e facilissimo da utilizzare. Io lo utilizzo ovunque, nelle camere, in bagno, in cucina, davvero dappertutto. E io lo utilizzo sul gress porcellanato. Questo dispositivo va bene su tutti i pavimenti duri sigillati. Se avete anche legno sigillato va benissimo. Se avete laminato va benissimo ugualmente. Lo trovo davvero comodo perché aspira qualsiasi cosa. Particelle, polvere e addirittura i liquidi. Ovviamente pulisce anche lo sporco più ostinato. Ad esempio qui c'erano diverse briciole. C'era anche il pavimento sporco di terra a causa delle cagnoline. E come vedete in un paio di passate il pavimento è tornato bello pulito. Io lo utilizzo molto spesso anche per andare a rimuovere le macchie. Se mi capita di vedere qualche macchia di sporco sul pavimento sparsa per casa attivo il dispositivo e passo soltanto sulla zona sporca senza necessariamente pulire tutte le volte il pavimento. Inoltre la pulizia del pavimento grazie all'aspirazione viene asciugato e lasciato senza loni. E questo è un aspetto che mi piace davvero molto. Un'altra cosa importante da sapere è che il dispositivo ha due serbatoi. Quello per l'acqua pulita e quello per l'acqua sporca che è questo qui. Infatti come vedete semplicemente passando il corridoio, la cabina armadio e una parte della cucina guardate quanto sporco c'era nel pavimento. Anche se a guardarlo non l'avrei detto. Una volta finito di pulire tutta la casa vado a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Che si può tranquillamente lavare sotto acqua corrente e potete lavare tutto. Quindi dal serbatoio stesso al filtro senza nessun tipo di problema. E poi dovete asciugarlo per bene per poterlo nuovamente utilizzare. Un'altra funzione molto interessante di Jet Clean è quella del lavaggio automatico del rullo. Basta mettere sul vassoio il prodotto, premere il bottone rosso di accensione e poi versare 150 ml di acqua. Acqua senza nessun tipo di detersivo e poi attivare la fase di aspirazione. Sono sufficienti 60 secondi. In questo modo l'aspirapolvere verrà pulita. Quindi l'acqua verrà erogata, verrà aspirata e il rullo verrà pulito completamente. Il rullo è in microfibra, molto facile da pulire. E le strisce azzurre che vedete sono leggermente abrasive. Quindi sono quelle che vanno a rimuovere poi le macchie che ci sono sul pavimento. È consigliato tra l'altro, una volta terminata la pulizia, lasciarlo asciugare all'aria. Quando ho il pavimento sporchissimo utilizzo anche un po' di detersivo. Io ne utilizzo uno specifico per chi ha animali in casa. Ne metto però davvero pochissimo. Una puntina è più che sufficiente. E mi sono data alla pulizia del pavimento in cucina, in sala da pranzo. Che alla fine è quello che è sempre più sporco. Perché è la zona della casa che viviamo di più. Specialmente nella zona dell'isola. Le macchie sono all'ordine del giorno. O anche quando carichiamo la lavastoviglie. Cade sempre qualche goccia per terra. Quindi il pavimento qui è sempre sporco. E lo passo tutti i giorni. Ma ormai lo faccio super volentieri. Perché in meno di dieci minuti ho lavato per bene tutto il pavimento. La cosa bella di questo dispositivo è che ottimizza i tempi. E quindi posso fare altro. Come ad esempio fare il letto. Perché quella mattina mi ero svegliata in ritardo. Dovevo scappare a lavoro. E non avevo il tempo materiale di fare il letto. Quindi una volta arrivata a casa. Dopo aver pulito il pavimento della cucina. Sono finalmente andata a fare il letto. Ovviamente potete fare tantissime altre cose. Con il tempo risparmiato. Ad esempio leggere. Ultimamente mi è tornata la voglia di leggere. Mi è sempre piaciuta. Però avevo un po' poco tempo per farlo. In queste ultime settimane mi sono prefissata di leggere con più costanza. E quindi mi sono concessa una mezz'oretta di tempo in giardino. Visto che era anche una bella giornata. A leggere un pochettino. Come avete visto i risultati parlano da sé. Io mi trovo benissimo. Sono stata molto contenta che Vileda mi ha dato la possibilità di provare questo prodotto multifunzione. Che ha rivoluzionato davvero i tempi di pulizia. In quanto risparmio parecchio tempo. E quindi lo posso dedicare come avete visto ad altro. Vi lascio qui in info box il link. E anche un cuorice sconto di 50 euro. Valido fino al 18 ottobre inserendo JetClean 50. Spero che il video vi sia piaciuto. Che vi abbia come sempre tenuto compagnia. Io ringrazio davvero tantissimo Vileda per questa opportunità. Se il video vi è piaciuto spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacione. E a presto. Ciao. Ciao.